E benvenuti e benvenuti all'appuntamento del giorno di con 33 di Marco Bertini E come sempre vi invito a seguire questo podcast, a seguirmi su un mio blog, lo scrittore dovante in cui pubblico recensioni, poesie e tante altre cose interessanti Vi chiedo per favore se volete supportarvi di mettere i mi piace, mettere i like, condividere e lasciare dei commenti Seguitevi anche su Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, trovate tutto nel link in descrizione Mi raccomando, seguitemi Adesso vi ricordo anche tutti gli appuntamenti del mio podcast e lo scrittore volante Ma in tutti gli episodi, perché ogni giorno, quasi ogni giorno, c'è sempre qualcosa Il lunedì, vi leggo la luna e falò di Cesare Ravese Il martedì, le follie del Paolone Mercoledì, il Guardione degli Innocenti Giovedì, eccoci qua con 33 di Marco Bertini Venerdì, sto in vita vissuta, sabato a ruota E mi sono messo a commentare in via podcastiana, in via radiofonica Le partite della Juventus Come sempre, vi introduco al libro che sto per leggere O l'argomento che vi sto per marrare Prima di cominciare 33 di Marco Bertini, che cos'è? È un libro di Hube, che era un membro dei Broken Speakers, prima che purtroppo si sciogliessero nel 2012 Dopo aver fatto l'ultimo album, fino al collo Ed è un racconto autobiografico di questo uomo Che racconta sua adolescenza tra problemi di tossicodipendenza, problemi di scappata di casa Anzi, è una adolescenza molto travagliata Ed è un racconto molto intenso e molto forte Secondo me, perché veramente scava nell'intimo di un essere umano in una maniera molto forte E dunque, io vi consiglio di rilassarvi Lasciate che, come al solito, magari metto un po' di introduzione E si comincia e si parte Grazie a tutti Ho un cuore matto da legare Un passato da non raccontare Una città che amo e che è impossibile da abbandonare Ho un cuore matto nel profondo Un passato che racconta Una città che è grande Quanto è grande Ho un cuore matto da legare Un passato da non raccontare Una città che amo e che è impossibile da abbandonare Ho un cuore matto nel profondo Un passato che racconta Una città che è grande Quanto è grande questo che avete appena sentito era la musica del teaser di quale matto di lube un quale matto delle gare in passato una città che è impossibile rilassatevi guardatevi questo racconto molto intenso e beh preparatevi capito 20 impicchiata mio nonno non ha mai voluto che lo chiamassi nonno diceva di essere troppo giovane per farsi chiamare così e in più questa cosa dei nipoti gli stava sul cazzo era un campagnolo parlava sempre a voce alta quasi merlando costantemente al limite della vita dell'aggressione fisica e verbale aveva molti sgraziati ed era incapace di capire come reazionarsi con il mondo fino al punto di rovinare completamente la sua vita e quella di chi un grigio fosse intorno perse tutti i suoi soldi perse tutte le sue case perse la voce di sua moglie le macchine, i quadri, la sanità mentale di quasi tutti i suoi figli e la sua ma questo non lo cambiò mai era sempre incazzato con se stessa e con gli altri ma il suo spirito era comunque quello di un rumoroso compagnone capace nella sua ottusità di godersi lo stesso la vita e di viverla sempre e solo secondo le sue regole era puro, unico, testato, a volte sensibile, a volte decisamente no un giorno il miglior amico di mio padre morì durante una scalata in alta quota avrebbero dovuto andarci insieme lui e mio padre ma alla fine non fu così e quando mio papà torna a casa distrutto dopo averlo saputo dal gelo dei presenti atterriti mentre entrava nel salone l'unico rumore attuale si cazziato per spaccare il silenzio fu la voce di Giacomino allora P.E. come vanno questi alpinisti? imbricchiata! P.E. era P.E. era Pietro, mio padre Giacomino era il suo rumore e quello era l'unico modo che quel vecchio burbero aveva di rapportarsi con noi almeno quando ero in buon umore crescevo confuso quando ero in quella casa tra striglie e battute fuori in ruolo chimiche spietate discussioni che degeneravano sempre a limite della rissa e del dramma familiare dinamiche, marci e grottesche che per noi erano all'ordine del giorno l'unica regola fondamentale, l'unica cosa chiara comunque era una i miei nonni non avevano nipoti Giacomino fumava tre pacchetti di sigarette al giorno, da tutta la vita e Minnie, sua moglie, in cambio aveva ricevuto un cancro alla gola da fumo passivo che la aveva costretta a farsi esportare completamente le corde vocali prima ero un insegnante, adesso non più si esprimeva bisbigliando da più di vent'anni e io l'ho sempre sentita parlare così era cresciuta in una colonia in Africa ed era la prima di cinque sorelle avevano trascorso l'infanzia praticamente da sole senza che i genitori o dei punti di riferimento importanti se non appunto lei, si occupassero di loro ma una volta sposata e a casa con suo marito, la Hase sua più grande preoccupazione era sempre solo quella di non disturbare ci diceva ossessivamente di fare i piani, di non creare problemi ma in realtà lei provocava continuamente il marito mentre lui nel frattempo era in piedi al centro del salone a urlare insulti contro tutti fino a farsi esplodere le pene dal collo tra le altre cose Giacomino teneva diverse armi in casa due o tre pistole e un fucile io non capivo bene perché lo facesse ma certo non glielo aveva richiesto mio padre liquidava sempre le mie domande lo giustificava dicendo che aveva vissuto tutti gli anni della guerra anni lontani in cui tutto era diverso una volta a capomano durante una vita finita male con suo cognato, l'ex marito e mia zia decisero di uscire in giardino per vedere chi fosse più bravo si inserano a mano a fuoco cominciarono a sparare la cosa causò un po' di problemi ma per noi quella era la normalità la storia di Giacomino, della sua rabbia, delle sue disavventure e del suo essere incapace di vivere in questo mondo affondava le sue radici molto lontano suo padre, morto improvvisamente dopo la seconda guerra mondiale aveva lasciato diversi terreni all'uomo di proprietà due case edifici e un palazzo enorme nel centro storico di Vidermo lui che era stato un partigiano ma ragionava come un fascista non era pronto per affrontare questa responsabilità metodicamente, delirante ma spinto anche a volte dai buoni propositi perse tutto quello che aveva spostando la sficella delle cazzate fatte sempre un po' più in alto non aveva studiato ma era un bravo pittore se non avesse lavorato neanche un giorno nella sua vita e l'avesse passato a disegnare dice sempre mio padre forse avremmo ancora dei soldi ma finì in rovina fino al punto doveva usare le borse di studio di suo figlio e la pensione di sua moglie per riuscire almeno a trovare una casa in affitto in un palazzo grigio di serpentere di serpentara serpentara niente più ville niente più automobili niente più regali di Natale mentre noi nascondevamo a casa i nostri ultimi quadri che non erano ancora stati pignorati eppure il suo spirito non sembrava piegarsi mai anzi diventava sempre più presumptuoso rabbioso e nessuna delle sue continue disavventure aveva dato l'impressione di insegnare di veramente qualcosa rilanciava continuamente era spavando incurante costantemente la ricerca di un punto di rottura che non sembrava trovare mai o mai abbastanza mentre la sua vita e le nostre andavano in pezzi mio padre oltre a lavorare per lui e girare la sua borsa di studio dovette anche trovarsi un secondo lavoro da meccanico per provare ad aiutare economicamente ma neanche questo serviva molto continuò a sentire un rullare il capione della notte prima che si svegliasse di sopra assalto una volta è entrato nel buio al salone per prendere un bicchiere d'acqua lo trovo seduto sul conigione della finestra con una pistola in mano che fai? gli chiese che faccio secondo te? non riesco a dormire torno a letto ma a tratti la sua umanità veniva fuori se saprei vederla costretto dentro alla vita di eroi c'era un animo ribelle presuntuoso di un uomo che aveva sempre sbagliato strada io odiavo tutto quel rumore quegli strigli mi facevano paura e poi lui non voleva mai che mi avvicinassi ma piano piano riuscii a superare questa distanza e cominciare a osservarlo meglio più da vicino si alzava alle 5 ogni mattina anche se ormai non aveva più soldi da perdere né un lavoro da fare innaffiava le sue piante le curava cucinava dolci aggiustava le vecchie poltrone di pelle distrutte da quella casa ormai povera e decadente e sapeva soltanto da qualche cimello del passato ancora rimasto in piedi io guardavo i suoi quadri guardavo lui era rimasto da solo ormai senza più niente ma sembrava quasi che così stesse meglio durante gli scioperi dei tabaccai rubavo esirente alle mamme dei miei amichetti per portare la casa da lui più se non trovavo io ogni tanto gli portavo anche delle paste le mangiavamo insieme qualche volta poche volte riuscivano anche a parlarci ma quelle sigarette che amava che consumava ossessivamente e finiva di continuo le sue vere uniche compagne di vita alla fine colpirono anche lui come avevano fatto con sua moglie un tumore questa volta il bormone che cominciò a mangiarsi il suo corpo ma il suo di cancro era già andato troppo avanti e in poco tempo se lo portò via l'ultima volta che l'ho visto prima che l'ho visto rideva e scherzava con i suoi compagni in stanza poi andò fu qualsiasi segretto in corridoio la morte in fondo non gli faceva paura Giacomino era comunque mio nonno la sua vita una vita impicchiata 21 G8 siamo in guerra ora quella vera l'assalti alle banche ai difender fiamme sulle macchine vetrate rotte negozi distrutti di corsa in massa dentro un supermercato le vetrine devastate con le spranghe e i sassi bottiglie negli zaini provviste per la notte cordoni cariche telecamere strappate ai giornalisti dai celerini e buttate nel fuoco autonomi pacifisti black block ragazzini infiltrati in mezzo ai voltosi pedine mosse sopra una scacchiera limone negli occhi sangue lividi ideali lacrimogeni speranze noccherotte tira su il passapontagna camionette e la polizia striscioli molotov voci che escono dalle radiovine mi rivedo in un documentario quello con una spranghe in mano sono proprio io diciotto anni dopo l'odio la rabbia il mondo che ci hanno tolto un rivolo di sangue rosso che esce dalla testa di Carlo già steso a terra piazza limonda i colpevoli la globalizzazione la carne di tutti quello è un rino di foto che ho perso e non li avrò più 22 ops fumavamo pippavamo spit e cocaina prendevamo pasticche psicofarmaci trip da ragazzini avevamo cominciato respirando le boccette di gas liquido attraverso il tessuto delle nostre magliette nascosti nei bagni della scuola media e da lì non ci eravamo più fermati ma quando per la prima volta provavamo la chetamina capimmo subito che quella sostanza poteva portarci in un'altra dimensione a parte parallela quella merda era diversa la chetamina di tutte le droghe è stata la prima con cui ho cominciato a uscire davvero dalla realtà la prima che mi sono sparato in vena mi sembrava fantastica nel senso letterale del termine mi trasportava in un mondo di fantasia e surrealismo fino a farmi galleggiare eravamo in una bolla di sapone diventavo mille bolle di sapone che diventavano nel mio cervello poi tutto esplodeva il mondo circostante in una cascata che andava su e giù potevi diventare qualsiasi cosa diventavi qualsiasi cosa era una sensazione di un tilt in una mente anacquata di perdizione totale in un mondo psichedelico e narcolettico allo stesso tempo la saliva asciutta in una bocca cementata come quando ti svegli dopo un intervento ne sento ancora qui il sapore ed è un sapore che non mi piace affatto era una sostanza che mi costrinse ad assumere parecchie forme come quella volta che dopo essermi fatto convinto che nessuno mi potesse vedere rimasi accovacciato sopra un marciapiede fermo immobile per 20 minuti le persone che mi passavano accanto pensavano che quello lì seduto fosse un barbone in preda a una crisi psicotica o forse più semplicemente un malato di mente ma io ero con 3 millilitri di ketamina in vena nascosto lì sotto sotto quel lampione ero diventato immisibile schermato dal flusso dell'acqua me ne stavo riparo dietro il getto della mia rascata oh come quella volta che le orecchie inizierano a fischiarmi senza più fermarsi e non riuscivo più a distinguere se quel suono me lo stessi immaginando o se esistesse davvero pensavo di implodere di morire scoppiavo non riuscivo più a deglutire e quando mi ripresi dal k-hole appena quel fischio finì pensai che il silenzio fosse la cosa più bella che avessi mai sentito in me la mia o come quando ho appollegato sopra un corrigione all'aracco di un palazzo rimasi lì tutto fatto come fosse un gran goil anche dopo aver finito di dipingere bloccato in quella dimensione di pietra sentivo i rumori della notte distorcersi assorbito dal palazzo come una scultura il suono delle strade cambiava forma amplificato così tanto da sembrarmi mostruoso ma dopo aver conosciuto l'eroina capì di aver trovato la droga giusta mi calmava mi faceva sentire in equilibrio portava dentro di me quel caldo di cui sentivo da sempre di aver bisogno ma l'eroina nascondeva un segreto dall'astinenza e l'astinenza ti trasformava in un mostro erano le sei del mattino e dopo aver girato in tondo per la stazione Termini tutta la notte e non essere riuscito a trovarmi un pezzo buttai giù due tavole per provare a calmarmi ma la silenzio era ancora lì che mi aspettava stavo male tornare a casa e cercare di leggere un libro forse Bukowski il respiro della ragazza con cui dormiva in quei giorni mi rendeva nervoso e vederla dormire accanto a me amplificava ulteriormente la mia semania mi sembrava ingiusto quella stronza era in pace l'astinenza di grande isterico oltre che molato debole fragile era un ultimo e così non sapendo come fare cominciai a frugare nei cassetti di casa li aprivo tutti cercando con le mani il più rapidamente possibile sapevo che lì avrei trovato qualcosa finalmente nella tasca del suo portafoglio una busta ketamina speravo che almeno quella o almeno per qualche ora sarebbe bastata a calmarmi era un po' più gialla rispetto al solito ma spesso la ketamina veniva tagliata e imbustata con qualsiasi cosa perciò poteva capitare che ha sommesso un aspetto più giallognolo anzi mi metteva anche di buon uore mi ricordava l'eroina presi il cane scesi era quasi la roba avevo sempre delle sirine in tasca decisi di mettermi in una zona dietro ai palazzoni un piccolo campetto da calcio sterrato alla fine di un parco me lo ricordo bene lo conosco benissimo ce l'ho ancora davanti agli occhi dietro a quella serie di edifici popolari perso nella periferia di Rebibbia anche nel quadrato di terra risultava grigioso quel quadrato di terra risultava grigio e triste spoglio abbandonato come me mi si è detti lì deciso a farmi una pera ci misi l'acqua sciolsi la sostanza e la fiala pronto finalmente a salutare l'astinenza che mi stava torturando almeno per un po' ma le droghe che puoi trovare nel cassetto di una raper di una ragazza che fa delle feste tecno la sua principale attività possono non essere sempre quelle che immagini possono rivelarsi qualcos'altro e quel qualcos'altro mi fu presto chiaro era una busta intera quasi un mirammo la mandai dentro più veloce che potevo ma prima ancora che la sfilassi la siringa che sfilassi la siringa mi resi conto che qualcosa non andava un'onda violentissima si impossessò di me rigidità completa del corpo le vene bruciavano in un modo diverso dal solito la testa parlinzata per un attimo iniziò a correre fortissimo andavo fuori in giri un'euforia così forte incontrollabile mi fece presto capire che avevo sbagliato e cazzo se avevo sbagliato mi era appena fatto una pena di anfetamina quella stronza che dormiva beata dovevo aver avuto voglia di speed quella sera iniziare a parlare da solo quasi impazzire dovevo camminare e dovevo camminare tanto perché sentivo che il cuore stavo per scoppiarmi cominciai a marciare come un robot posseduto in mezzo a quel parco camminavo e parlavo parlavo e camminavo pensavo con l'uso autistico della voce al liberarmi da quel mostro che mi aveva assalito stavo urlando urlavo senza retta e alcun suono discutevo senza che nessuno mi ascoltasse e senza che nulla di tutto ciò che facevo avessero riscontro con la realtà circondato alla terra di nessuno da solo contro sensazioni che sembravano volermi soffocare fino a farmi esplodere blackout avevo bisogno di aria ma non riuscivo a respirarla dietro la pace che cercavo chiusa in quei quattro sporchi angoli di cartoncino c'era la faccia di un devone avevo sbagliato di nuovo quando il mio battito cardiaco si mise di fare così tanto rumore da non riuscire più neanche a sentire i miei pensieri alzare di nuovo lo sguardo e ripresi a camminare sfinito svuotato esausto cercavo la strada e il ritorno verso quei palazzi freddi il mio cane in qualche modo mi aveva seguito fino a quel momento attraversando la strada circondato in una realtà che adesso mi sembrava ancora più strana sali a casa il silenzio di un ascensore mi sembrava assordante è entrato in camera con le poche forze rimaste il sonno calmo della mia ragazza mi sembrava l'unica cosa rassicurante l'ho serpato da fuori mentre dentro stavo crollando scoppiare in un pianto disperato piangiavo così tanto non riuscivi più a respirare quasi fino a strozzarmi ma di nuovo non amettevo alcun suono e l'aria che sentivo mancare adesso finalmente non mi faceva paura nessuno si è mai sentito così solo perso e sbagliato come me in quella mattina del bibbia 23 30 sono vecchio forze? maturo? o marcio? ti saluto a maggio magico e comincio il viaggio non dormo ma bevo non mangio se ti vedo mi manco 24 vigne nuove alle superiori la mia scuola era proprio in mezzo Frentovello Serpentara e vigne nuove nella periferia di Roma era stata creata riutilizzando dei palazzoni che in origine dovevano essere usati come abitazioni al posto e alla palestra usavamo le vecchie cantine del seminterrato in classe avevamo un balcone e ogni piano aveva un sottoscala che è uscita dove succedeva sempre di tutto nel nostro la scaletta C le mattinate le mattinate le passavamo vedendo vendendo il fumo e le categorie di quelli che ci trovavi dentro erano sempre le stesse due i coatti e gli alternativi e dalle nostre parti negli anni 90 i coatti erano coatti veri quelli brutti quelli coi jeans tre taglie più stretti rasati coi bomber le cordonine d'oro i fascisti che andavano allo stadio menavano le zecche quelli con doppio taglio i capelli lunghi con la gelatina quelli che andavano a ballare nelle discoteche fuori Roma pipavano prendevano mille pastiche quelli che a noi sembravano un'involuzione dell'arza umana i coatti però erano abbastanza uniti simili fra di loro quasi tutti uguali erano loro a dominare il quartiere gli altri matini invece si dividevano in varie categorie c'erano i frecchettoni che erano quelli del centro sociale con la vespa i capelli lunghi i maglioni di gasagno leggevano Marx e Nietzsche o almeno dicevano di farlo e avevano sempre con sé qualche vontino politico erano quelli di sinistra che ascoltavano un borbo male e suonavano una chitarra gli amici delle frecchettone femministe che facevano di tutto per sembrare dei maschi trasandati andavano a Villa Ala suonavano i giambè vestivano come se fosse ancora negli anni 60 e facevano tutte quelle cose colorate che a noi sembravano da coglioni nonostante fossero attivi e pacifici delle loro idee non fregavano un cazzo a nessuno tra gli alternativi i diversi c'erano anche i rave gli industriotti che contavi sulle dita di una mano della nostra scuola coi piercingi moschettori i tatuaggi gli occhiali da sole sempre addosso le creste i thread come un bullone nei capelli gli assacca a spostare spogliati trasandati sporchi malandati quelli della speed della ketamina delle droghe sintetiche che in classe non entravano o entravano alla seconda ora e sembrava che per loro fosse sempre notte in mezzo ci trovano anche i fratelli e i skater poi i vestiti larghi i marker e i cappelletti ascoltavano i rap il punk e scrivevano sui banchi nei bagni sui muri e sulle scale e poi c'erano gli autonomi pochissimi ma molto attivi quelli che alla politica la facevano davvero non come i bricchettoni quelli degli scontri delle case occupate quelle delle manifestazioni fatte ma non per andare a cantare quelle delle azioni vere non delle marci nei cortei loro erano il polo opposto del quartiere e il più acceso c'erano anche delle categorie intermedie come i gabberini per esempio che erano un incrocio perfetto di tutte le peggiori caratteristiche dei coatti e dei raider con una spruzzatina di punk a colorare o i writer che andavano anche a ballare la techno tanti di questi mondi spesso si incontravano si incrociavano si scontravano si picchiavano ma nella scoletta C quella dove si fumava e si vendevano erba e fumo per tutta la mattina c'era una sorta di pregua di pace armata ognuna di queste categorie si ritrovava lì dentro era il punto di contatto di scambio fra quei diversi mondi e tutti sapevano cosa facevano lì il preside i professori anche i carabinieri cadevano una conferma lì a fianco e ogni tanto si presentavano a romperci il cazzo all'entrata della scuola con i cani io vendevo il fumo a tutti quanti dentro e fuori la scuola ero diventato la neve di congiunzione fra quei mondi lo pagavo e lo vendevo in fretta ero veloce vendevo nero pakistano carte rosse carte oro erba creme e tra tutti quei coatti abituati al cioccolato scadente pieno di paraffina che girava in zona la voce si era sparsa in fretta anche io ero abituato a quella merda ma dopo un po' di tempo avevo trovato dei contatti migliori in un altro quartiere e così loro venivano da me sempre più spesso erano come le mosche sul miele andando avanti però la cosa cominciò a sfuggirmi leggermente di mano mi cercavano ogni momento in continuazione nei corridoi al parco a casa sotto casa cominciavano a venire a bussare in classe nelle poche ore di lezione in cui me ne stavo seduto al mio banco in fondo all'aula molti loro nemmeno venivano a scuola lì erano molto più grandi arrivavano dai palazzi di vicino a venirci a bussare in classe per loro era come scendere scusate in piazza come scendere in piazza alcuni venivano dalla strada quella vera e vivevano così da quando erano amati da generazioni con loro bisognava stare attenti avevano addosso una storia diversa dalla mia molto più dura ma meno complicata li rispettavo con quelli della mia età invece l'attrito era maggiore loro non piacevano a me e io non piacevo a loro col tempo ero entrato in contatto con un personaggio leggendario dalle nostre parti era un ex pugile professionista molto forte squalificato dalle competizioni perché dopo un incontro perso i punti aveva massacrato il botte l'arbitro e i giudici era un criminale vero entrava e usciva dalla carcere in passato aveva scontato anche una pena molto lunga e ormai aveva più di 40 anni ma continuava a terrorizzare il quartiere era violento fortissimo fisicamente imprevedibile completamente pazzo picchiava viveva facendo prepotenze risse rapine usava ogni tipo di droga ed era il collegamento fra la vera criminalità romana e quella piccola povera di zona dalla quale di solito abusava ottenendo tutto quello che voleva se ne sa mai chiedere o dare niente in cambio in cambio se non la grazia voleva spesso il mio fumo anche se in piccole quantità e ovviamente non lo pagava mai io comunque gli piacevo forse anche per questo studiavo quel personaggio pericoloso e imprevedibile ma girare con lui era impossibile sembrava molto pronto a scattare in qualsiasi momento era scostante e non sapevi mai dove potevi finire o cosa sarebbe successo da lì a poco con me però era protettivo lo divertivo diceva forse conosceva in me un po' della sua stessa follia anche se espressa in forme diverse così per un po' mi porto in giro con lui e non avevo molta scelta riguardo il mio nome cominciava a girare ma a tanti coatti del mio quartiere la cosa non piaceva molto uno di loro che non conoscevo e non sapevo dove abitasse venne a chiedermi il fumo mezzo chilo si era presentato a me sotto casa e mi disse che gli serviva per quella sera stessa che dovevamo portare un altro amico e che lui mi avrebbe dato i soldi subito non mi piaceva ma avevamo con le scienze in comune e mi capitava spesso il danno ad altri della sua comitiva e ho così avviruato a fare quella vita che non ci pensai troppo ma nei suoi occhi e nella sua voce c'era qualcosa di strano fu un pensiero una sensazione veloce che non ascoltai fino in fondo gli dissi che andava bene e che ci saremmo visti quella sera stessa presi quello che dovevo portare e verso le 11 venne a citofonarmi quando scesi mi disse di seguirlo saremmo mandato con la sua macchina a casa del suo amico fin in lì niente di troppo strano i passaggi di mano quando c'erano in ballo quantità un po' più grandi si facevano sempre a quattro mura tra quattro mura io andavo spesso a casa degli altri per non creare troppo sospetto intorno alla mia ma il suo modo di parlare ancora non mi convinceva era sfuggente varvo mi sembrava nervoso ambiguo quando arrivamo in macchina ce ne erano altri tre lì ad aspettarci più grandi e più grossi di lui mi fecero salire dietro si presentarono e partimmo mi sono subito all'ostero a tutto volume avevano pippato urlavano erano invasati e ho finito in mezzo a un branco il branco sbagliato era chiaro che c'era complicità fra di loro e che si sarebbe rivoltata presto contro di me ma restare al mio posto attento arrivati sotto i palazzoni dove ci sarebbe dovuto essere il suo amico fermavano la macchina e nello spiazzo quello era venuto a citofonarmi che era venuto a citofonarmi mi disse di lasciare il fumo e di aspettarlo lì che non potevamo salire tutti lui sarebbe andato su e se tutto era a posto sarebbe cesso con i soldi sguardi tensione la sua voce era finta i suoi occhi provavano a mascherare un gioco che conoscevo bene avevo già capito ma l'avrei comunque aspettato lì era ancora seduto sul sedile dietro in macchina con gli altri tre intorno quando arrivò per portarmi i soldi mentre stavo per prenderli quelle quattro bestie con la bava alla bocca si girarono verso di me e mi aggredivano due di loro mi siano appicchiati gli altri due mi tenevano per impedirmi di difendermi il primo di loro accese in fretta la macchina mi devono arrivare i pugni ne sentivo i colpi rumori di nocche sugli zigomi calci sulle costole provai a rispondere al fuoco ma prima che ne rendessi conto mi avevano già buttato giù dall'abitacolo e mi stavano ripartendo sgommando l'ultimo colpo prima di spingermi dalla portiera fu un calcio un altro fortissimo sulla schiena ricordo i rumori di pneumatici che fischiavano accanto alla mia testa la polpa è sollevata le ruote sulla mia faccia io che ho rimasto anche senza una scarpa provai ad alzarmi e correrei dietro e correrei dietro ma mentre cercavo di colpire il vetro con un pugno avevano già dirigito all'angolo troppo tardi erano spariti nel nulla continuavo a correre a urlare avevo il fiatone la carne scorticata sull'asfalto avevo preso parecchie botte sul corpo e in testa ma quello era l'ultimo dei miei problemi dei miei problemi continuavo a camminare in quel parcheggio scalzo senza una scarpa mi sentivo umiliato pieno d'odio mi sarei dovuto fidare più del mio istinto pensavo e la cosa mi faceva incazzare il battito del mio cuore ancora fortissimo mi martellava nel petto avrei dovuto fare qualcosa subito il giorno dopo chiamai il fuggile non sapevo bene chi fossero quelli che mi avevano fregato o dove trovarli ma lui ovviamente si senza dire niente mi riportò sotto il fortone di uno di quei palazzi alti e rovinati ricordo ancora la voce di quel coatto che aveva organizzato tutto quando quella mattina verso le nove e mezza lo sentiva citofono di casa mia senza neanche bisogno di parlare recuperare i soldi che la sera prima mi hanno stati tolti ma in fondo era la legge della strada potevi essere preda o predatore quella era l'unica giustizia che era più forte più furbo più svelto aveva la meglio non esistevano altre regole era cinico ma sembrava ci fosse un equilibrio nessuno di noi era sicuro e nessuno era sicuro da noi l'anno successivo andai via da quella scuola e col tempo non ho più visto nessuno di loro fuori anni dopo il mio amico criminale il boss con le strade morì gli sparavano tre coppie gritti nella pancia anche lui alla fine era andato al tappeto per una volta sola quella l'unica tutti nella vita aveva perso almeno un incontro e dunque siamo ormai alla 35 minuti quasi 36 ho detto un po' di robe spero che vi sia piaciuto come sempre vi invito a condividere ascoltare anche gli altri podcast a seguirmi eccetera eccetera e vi dico che questo racconto sui bulli degli anni 90 mi hanno ricordato i miei della nostra città con la differenza che siamo in una città in cui praticamente tutto arriva in ritardo e quei bulli che per Uber erano gli anni 90 per noi sono stati nel 2000 e nei primi 2000 detto questo vi auguro una buona giornata una buona serata e ci vediamo alla prossima domani con storie di vita vissuta ciao a tutte e a tutti grazie 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 a tutti